Noi ebrei romani ci sentiamo parte integrante della città di Roma, ci sentiamo romani. Noi ebrei romani ci sentiamo romani ci sentiamo romani ci sentiamo romani ci sentiamo romani. L'idea nasce quasi tre anni fa con Agostino Melino che con me firma il soggetto di questo documentario. Nasce dalla sua voglia di raccontare questa comunità ebraica e dalla proposta che mi ha fatto. Io ho accettato con entusiasmo perché conosco un po' la comunità ebraica romana per essere bene occupato in passato perfino da ex allievo della scuola del centro spiglientale di cinematografia, parlo del lontano 89-90. E quindi ci siamo messi a lavoro facendo innanzitutto uno scavo per entrare in rapporto con questo mondo. è complesso perché la cultura ebraica è qualcosa di complesso per tutto quello che porta con sé ma di una ricchezza straordinaria. Io penso che oggi questa comunità che è la comunità ebraica di Roma la più antica di occidente sia una componente fondamentale della città di Roma. e lo dico senza retorica perché secondo me il loro senso dell'appartenenza e il loro orgoglio ci permette anche di riconoscere noi stessi. In che senso? Nel senso che un ebreo dice sempre questo, noi non apparteniamo a Roma, è Roma che appartiene a noi. Può sembrare anche presuntuoso tutto questo ma in realtà ci dice che oggi nella società globalizzata è importante sentirsi anche appartenente a qualcosa. Cioè che l'essere global, forse un po' in disuso, e l'essere allo stesso tempo però legato a un territorio, a propria cultura, ai propri radici, sono due cose possibili. Nel film ci sono più testimoni, per esempio i più giovani, che sono Giovanni e Michela, Giovanni si occupa di catering kosher, sia di vini che di cibi kosher, quindi conformi secondo la dottrina ebraica. Michela invece fa la guida turistica nel ghetto, in particolare per gli ebrei americani. Loro per esempio hanno un sentimento religioso molto più forte dei genitori, c'è questo aspetto molto forte, per esempio l'identità religiosa è più sentita dai giovani ai 30-40 anni quanto si è sentita dai 60-70 anni, che non è una cosa da poco. Questo può portare in talunni casi anche a un'ortodossia che può creare in qualche modo maggiori contrasti, ma in realtà io mi sono accorto che persone come Michela e Giovanni vivono in maniera molto laica, il proprio credo. Sentono solo il bisogno di riavvicinarsi attraverso la sinagoga, attraverso lo festeggiare degnamente lo Shabbat o le loro importanti feste religiose, di qualche modo di riappropriarsi di un qualcosa che forse perfino gli ebrei romani in passato avevano un po' dimenticato.